Un'assemblage di... Il discorso è quello che avete far pagliato, gli ingredienti... Questi ingredienti sono tutti buon po' in là, devono stare insieme con gli ingredienti, eh? Quanto rimane? La bravo la frattina. Quanto bene è il mondo, però? Massaggio a Torino. Stavolta ha preso la tua propietà, eh? Lacerate tutti, lui ha chiesto. Perfetto. Vai. E cosa vuoi dire? Eh, dopo di lui era per prendere tutto il pezzogno, e ha avuto sfortuna che si è rotto, se no, manca acqua va tutto. Le olive a crudo sono? O le corte insieme al fondo? E' tutto a crudo, tutto a crudo. I pomodorini, appena scortati prima, non si è tolato da vedere. E li ha tagliati. E poi ci ha aggiunto delle olive e il prezzegno. Pollo è corto. Salato giusto? La salsa, a me, personalmente, non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Purtroppo, sai, quando fai una salsa con yogurt, ci va un po' d'olio, ci va un po' di pene, un po' di sale, perché la devi trasformare in qualcosa di salato. Esatto, e non è saporita abbastanza. Cioè, è rimasta lasciata. Solo cipolla e... Si sente seri solo, la cipolla, però non è saporita. Ma Donino... A me è tendenzialmente di salsa, mi piace tantissimo. Però... Lui ti manca. Allora, io che adesso cerco di mettere? Pollo. Cerco di prendere tutto l'insieme. E vediamo che succede. Pollo. Vai, Riccardo. E via, Castrini. C'avete anche il cuore di una domanda. E, l'ho già detto prima, è disarmonico, perché se io prendo la salsa, che comunque è simile, la metto nel pollo, poi la sposto con questo qua, che è mezzo corto, questo addirittura crudo, non ci siamo. Grande Molocaccia ha messo top, però qui non abbiamo raggiunto quello che... Tu hai delle qualità, perché ho visto precise, cioè, riflettete per la finale. Ai gol.